E ora vi parliamo di Fabio Coloricchio e Silvia Raffaele, se avete capito benissimo Silvia e non Nicole Mazzucato ossia della non scelta. In questo mese e mezzo da quel giorno ne sono successe di ogni. Fabio ha spesso e volentieri dichiarato che quello con Nicole Mazzucato, spesso e volentieri mi ha sembrato anche provocatorio, come quando proprio nella mia esterna post scelta disse di essersi in un'ora dove ho matigato, o quando in una delle prime interviste disse che aveva dormito con Nicole già dalla prima notte insieme a Roma post scelta. D'altronde anche alcuni video e foto di Silvia Raffaele e relativi messaggi su Instagram sono apparsi abbastanza provocatori. Insomma di certo non si sono amati a telecamere spente questo è. Fatto sta che Fabio Coloricchio ha voluto incontrare di nuovo Silvia Raffaele post trono, lo svela lo stesso extronista che intendeva ad esempio la sporteggiatrice di un incontro di un pacificatore o quanto successe a parte dello scopo e mi ha venuto con scelta. Però è un'ora che molto male, fatta di svela il nostro Fabio Coloricchio che in questo incontro, la ex sporteggiatrice Silvia Raffaele non ha trattato malissimo. Se buona futta mi venrebbe quasi da dire se pretendeva che facesse. La risposta di Silvia Raffaele al suo tromista Fabio. Che segnala che il canale non si esora di un po' di fatto di un'ora, che per prendere un po' di fatto di un'ora e non c'entra la discussione e non c'entra. Ho fatto una cosa, ma che insomma non c'entra la tua casa, e non c'entra la propresa e non c'entra la fidanzata. Ma proprio il canale non interviene da Silvia Raffaele, che l'esima volta ha deciso di non rinforzare nulla ai suoi fans, scendendo in questo senso un basso profilo, ma però dopo due giorni ha pubblicato questa foto nella sua pagina Instagram ufficiale, insomma la sua pagina profilo personale. C'è veramente un po' di fatto della buona semplice in questo senso, il suo maggiore è un po' di fatto di un'ora e non c'entra la mia posa, e gli asti di un'ora e non c'entra la mia sera e non c'entra la mia sera e non c'entra la mia. O se è il caso fuori che non fa previ di rinforzarsi, anche se poi un fan sia di favore con l'orizione e poi mai giocato che quello di Silvia Raffaele abbiamo visto benissimo come la prendono male. Grazie a tutti.